Mi decisi a forzare i turchi, lo volessero o no, attaccando la Crimea per portare la guerra nel Mar Nero e combattere la Russia, loro nemica tradizionale. Ammiraglio William Sushon, comandante SMS Geben Bentornati amici ed amiche di Storia per le tre età. La notte del 10 agosto 1914 due unità della Kaiserlichmarine tedesca. La Kaiserlichmarine era la marina del secondo Reich tedesco, del Kaiser Guglielmo II, che dopo pochi giorni che era scoppiata la Grande Guerra, siamo appunto il 10 agosto, entrarono nel Mar di Marbara e chiesero di ormeggiare a Costantinopoli. La Kaiserlichmarine sarà quella che poi alla fine della guerra diventerà Reichsmarine durante la Repubblica di Weimar per poi essere trasformata alla metà degli anni Trenta da Adolf Hitler nella marina di guerra del Terzo Reich, la famosa Kriegsmarine. Il Gran Vizir, ovvero il presidente del Consiglio, primo ministro corrispondente al primo ministro occidentale, la carica del Gran Vizir nell'impero ottomano, che era la persona di Said Alim, aveva autorizzato il loro passaggio attraverso i Dardanelli per evitare il loro annientamento da parte della flotta britannica, la Royal Navy, che si era posta a loro inseguimento, causa appunto lo scoppio delle ostilità. Queste unità della marina tedesca si trovavano nel Mediterraneo nell'ambito di un'operazione di battugliamento coordinata nell'ambito della triplice alleanza, che vedeva appunto Germania, Austria, Ungheria e Italia alleate. Le autorità dell'intesa chiesero però subito che, in base a quella che era la normativa internazionale in caso di guerra, che essendo due navi belligeranti, queste due unità tedesche, venissero costrette a lasciare subito le acque ottomane entro 24 ore, come era previsto, o in subordine che fossero immediatamente disarmate. L'alternativa che minacciavano le autorità britanniche era il blocco dello stretto dei Dardanelli, che però ovviamente non poterono attuare perché quello sarebbe stato un vero atto di ostilità nei confronti dell'impero ottomano, una vera e propria dichiarazione di guerra. Le due unità che erano sfuggite, di cui di questo argomento parleremo successivamente in un altro video, perché si tratta di un vero e proprio enigma molto complesso, erano la Geben e il Breslau. Il Geben era un incrociatore pesante dei tipi da battaglia di nuovo tipo, i Dreadnoughts, che erano praticamente degli incrociatori di moderna concezione, che avevano una velocità di crociera più alta e avevano un tipo di armamento di un calibro unico, cioè tutti i cannoni avevano lo stesso calibro, una potenza di fuoco maggiore rispetto alle unità di vecchia generazione. Poi la seconda unità era il Breslau, che era un incrociatore dello stesso tipo, però più leggero rispetto al Geben. Si erano appunto introdotte nel mar di Marmara e avevano chiesto questa sorta di asilo alle autorità ottomane, ormeggiandosi appunto al porto di quella che all'epoca si chiamava ancora Costantinopoli. Appena il 9 agosto, il giorno precedente, il Gran Vizir, che corrispondeva alla persona di Said Alim Pasha, aveva comunicato all'ambasciatore tedesco a Costantinopoli, Hans von Wangenheim, l'intenzione del governo ottomano di firmare con la Grecia e la Romania una pubblica dichiarazione di neutralità. Nell'ambito del conflitto che era scoppiato in Europa, gli ottomani ci tenevano a rimarcare la loro neutralità. Già dal 2 agosto 1914, l'impero ottomano e l'impero tedesco avevano sottoscritto un comune trattato militare segreto in funzione antirussa che prevedeva una comune strategia offensiva e difensiva in caso che la Russia avesse portato un attacco contro la Turchia. Sappiamo che uno dei motivi principali per i quali la Russia era entrata in guerra era appunto di cercare di sfondare una volta per tutta la porta dello stretto del Bosforo e appropriarsi di oltre che della capitale Costantinopoli del Mar di Marmare avere così lo sbocca attraverso i tardanelli nell'Egeo e finalmente di arrivare a quei mari caldi da cui ambivano da due secoli. I russi avevano combattuto contro gli ottomani circa 12 guerre per cercare di portare avanti questa penetrazione verso sud. L'unica volta che gli occidentali negli ultimi secoli erano intervenuti in difesa dell'impero ottomano era stata durante la guerra di Crimea di metà ottocento quando fu per l'unica volta che le potenze occidentali si schierarono con la Turchia in funzione antirussa. Per tutto il resto di questi ultimi decenni gli ottomani che erano considerati l'impero malato d'Europa avevano continuamente perso dei territori e uno dei principali antagonisti, uno dei nemici storici era proprio la Russia. Per cui, con questo trattato che il 5 agosto ebbe l'avallo del capo di stato maggiore tedesco von Falkenhay e del Kaiser in persona Guglielmo Sergonto, la Germania, unica potenza occidentale, si impegnava a garantire l'inviolabilità dei territori ottomani. Il 10 agosto il capo della missione militare tedesca a Costantinopole, con l'arrivo delle due unità germaniche in porto, aveva chiesto esplicitamente a Enver Pasha, uno del triunvirato dei giovani turchi che de facto dominavano la politica turca, ed Enver Pasha nella fattispecie era ministro della guerra, aveva chiesto che, oltre all'autorizzazione all'attracco nel porto, delle navi che si trovavano in attesa alla fonda nel mar di Marbara, ci fosse anche una dichiarazione esplicita dell'impero ottomano di entrare in guerra a fianco della Germania. Le contro richieste turche, nel caso che avessero accettata la proposta di alleanza della Germania, erano principalmente l'abolizione, una delle prime richieste era l'abolizione delle capitolazioni. Le capitolazioni erano un istituto che risaliva ancora all'età moderna e che gli ottomani avevano stipulato dapprima con i francesi, che prevedevano una giurisdizione separata per i cittadini stranieri, occidentali principalmente, che si fossero macchiate di violazioni di leggi sul territorio turco, che dovevano essere giudicati non dalla magistratura e non potevano essere trattenuti dalla polizia turca, ma dovevano essere consegnati all'autorità del loro paese. Perciò era una sorta di umiliazione costante che nel corso dei secoli, per ragioni su cui ritorneremo, gli ottomani erano costretti a subire, era un vulnus, una diminuzio dell'autorità dello Stato ottomano sul proprio territorio, perché non era pieno nei confronti di tutti coloro, di tutti gli stranieri che vi soggiornavano. Queste infatti poi furono abrogate unilateralmente, sempre il susseguente, l'8 settembre 1914. E poi un'altra richiesta che veniva fatta alle autorità germaniche è di far credere che queste due unità fossero state comprate dall'impero ottomano, cioè che fossero state regolarmente pagate e che i tedeschi fossero giunti là unicamente per consegnarle. L'ambasciatore a Costantinopoli tedesco, che era il barone Hans von Fankenheim, prima le spinge, poi si consulta con Berlino e si decide di accettare questa sorta di messi in scena che c'era stato anche un fatto precedente, che dirò fra qualche minuto, che poteva anche giustificare questo acquisto di queste due unità. Il 14 agosto, unilateralmente, la sublime porta annuncia quindi di aver acquistato le due navi tedesche per la somma di 80 milioni di marchi. Un frustrato e depresso ambasciatore a Costantinopoli, von Fankenheim, è costretto a telegrafare a Berlino che l'unica via di uscita era di confermare questa falsa compra-vendita. e Berlino è costretta ad accettare perché l'alternativa sarebbe stata abbandonare il porto di Costantinopoli, uscire di nuovo nel leggero, in mare aperto, nel Mediterraneo e affrontare, con esito in fausto, la flotta britannica che era in attesa. Cioè, sarebbero state le due unità definitivamente perse. Questa messa in scena, in effetti, riesce a ingannare le potenze dell'intese, principalmente gli inglesi, perché, come diceva, c'era stato un fatto che era avvenuto precedentemente, che due unità che erano in costruzione da anni presso dei cantieri inglesi e che sarebbero dovute entrare in servizio nella marina ottomana e che erano la Sultan Osman I, questa unità più grande, e un'altra unità più piccola che era la Resciadie, che erano sempre unità di nuova generazione, classe dreadnought, che gli ottomani avevano quasi per intero pagato e che nell'incipit, all'inizio dei primi giorni di guerra, gli inglesi avevano bloccato la consegna proprio in virtù di questo sentore filo tedesco dell'impero, della sublime Eporta e nei confronti dell'intesa e che avevano voluto appunto non consegnare, questa era stata una decisione del primo lord dell'ammiragliato britannico che era Winston Churchill che le aveva appunto dapprima bloccate e poi queste navi che erano state comprate anche con una sorta di colletta collettiva di tutte le classi sociali, anche gli scolari turchi avevano raccolto dei soldi per pagare queste due unità che erano importanti per la supremazia sui mari della sublime Eporta, furono dapprima, come ho detto, bloccate e poi definitivamente confiscate su decisione di Churchill e questo è anche un argomento su cui ritorneremo. Le vittorie estive della Germania, principalmente le vittorie dell'agosto-settembre, la vittoria della battaglia di Tannenberg e dei laghi Masuri a oriente contro i russi, avevano sempre aumentata la convinzione presso i turchi che la Russia sarebbe stata molto velocemente sconfitta dai tedeschi. Principalmente quello che si era ancora più convinto di scendere in guerra a fianco della Germania era il ministro della guerra, già citato Enver Pasha, che aveva questa propensione era proprio nell'ambito dell'establishment politico ottomano, il più filo tedesco. Il 12 settembre il ministro Enver Pasha comunica a Wilhelm Suchon, che era il comandante dell'unità più grande tedesca della SMS Geben, dell'ingrociatore Geben, che forse sarebbe stato autorizzato a uscire nel Mar Nero per manovre di addestramento. Ma fra questi giovani turchi, che erano cosiddetti questo partito politico, il comitato Unione Procresso, che de facto governava la Turchia a scapito dello stesso Gran Vizir e del sultano Mahometto V, doveva però affrontare anche degli ostacoli all'interno del triunvirato che si era formato nella conduzione della politica turca, che era oltre a lui il Cemal Pasha, che era ministro della Marina, per cui direttamente interessato, e Talat Pasha, che era ministro dell'interno. Questa sorta di triunvirato, socialmente nella persona di Cemal, trovava un'opposizione all'entrata in guerra a fianco della Germania, perché a differenza di Cemal Pasha, il ministro della Marina, era più propenso a un'alleanza con l'intesa. Le spie tedesche segnalarono che c'era una minoranza contraria alle alleanze con la Germania all'interno del CUP, del comitato Unione Procresso, che era praticamente il partito di questi giovani turchi. Però, ciò nonostante, si sentò di portare avanti questa strada di alleanza, questo itinerario che avrebbe portato a un'alleanza stretta con l'impero germanico. Quindi, il 24 settembre, Suscion era stato nominato vice-ammiraglio della flotta ottomana del Mar Nero. Cemal Pasha era l'unico nell'ambito della politica ottomana che era contrario all'alleanza, come dicevo, con la Germania, era più filo intesa. Era stato ufficiale di Stato Maggiore ed era membro del CUP e fu l'unico del Triunvirate di Tepasha che aveva questa visione diversa. La conoscenza delle autorità britanniche del Foreign Office, diciamo, il Ministero degli Esteri inglesi, in relazione alle dinamiche politiche e ai contrasti all'interno del CUP, era presto che nulla e questa fu la causa che poi porterà la Turchia ad allearsi definitivamente con la Germania, come vedremo quali saranno i passi successivi. Oltre a Amir Pasha e a Cemal Pasha, il legame comunque che li teneva uniti era il panturchismo, erano cioè portatori di questa dottrina politica di unione di tutte le componenti turche anche fuori dai confini dell'impero ottomano. Infatti lui sarà fra i principali responsabili del genocidio, almeno che partirà il 25 aprile dell'anno successivo, del 1915. Infatti diceva, sono prima di tutto ottomano, ma non dimentico che sono turco, che è l'asse portante dell'impero ottomano. Come esponente fortemente di ispirazione panturco, perciò contraria alle altre componenti dell'impero, in particolare agli armeni, morì assassinato a Triblisi da una congiura, un attentato portato avanti da miliziani armeni nell'agosto del 1922. Adesso, in questo momento, è il ministro fondamentale per la guerra sui mari perché è ministro della Marina. Ma adesso vediamo un'occhiata più da vicino alle due navi in questione. L'SMS, cioè nave di sua maestà, corrisponde all'HMS, il Majesty's Ship inglese, era la dicitura della Marina del Kaiser, era un incrociatore da battaglia pesante classe Motque che diventerà poi ammiraglie della flotta ottomana con un nuovo nome che assumerà in questa nuova Marina che è il nome Yavuz Sultan Selim sintetizzato in una parola Yavuz che è così che sarà poi conosciuto nel corso degli anni. fu danneggiato durante la battaglia del gennaio 1918 che si tenne all'arco dell'isola di Imbros per essere poi rimodernato completamente nel 1930 sotto la presidenza di Mustafa Kemal Ataturk e continuò a navigare fino agli anni 50 quale ammiraglia della flotta turca sempre con lo stesso nome di Yavuz l'altra unità invece era il Breslau che era più piccolo classe Magdeburg che anche incorporata nella flotta ottomana prese il nome di Midilli il Midilli affondò sempre durante la battaglia all'arco dell'isola di Imbros su delle mine in Egeo durante una missione che fu ordinata dall'ammiraglio tedesco von Paschwitz che fu colui che sostituì quando fu richiamato in patria appunto il nostro ammiraglio Wilhelm Sushon oppure avendo ottenuto dai tedeschi queste due belle unità con la falsa compra vendita gli ottomani non erano però in grado di governarlo non avevano ufficiali e marinai in grado di manovrare e manutenzionare due navi così sofisticate e tecnologicamente avanzate allora l'idea fu che Sushon quale vice ammiraglio nominato vice ammiraglio e comandante della flotta ottomana del Mar Nero le avrebbe comandate direttamente lui e i suoi marinai lo avrebbero coadiuvato però travestendosi cioè ricevendo uniforme turche complete con il classico copricarbo come vedete a sinistra Sushon con il suo stato maggiore le avrebbero appunto lo avrebbero coadiuvato ricevendo travestendosi con uniforme turche con il Fez l'opera di convincimento di entrare in guerra a fianco della Germania fu portata avanti dalle autorità tedesche con due milioni di sterline turche in oreo che furono inviate dalla Germania a Costantinopoli e che arrivarono entro il 21 ottobre che completarono appunto questa opera di convincimento nonostante ci fosse ancora la strisciante opposizione di Talat Pascià Ember Pascià che era riuscito a portare dalla sua parte il ministro della Marina Cemal Pascià decisero in gran segreto di pianificare un'azione cioè sostenere che le unità turche che erano le ex unità tedesche coadiuvate da vere unità turche erano state attaccate dai russi durante una normale operazione di addestamento e di esercitazione del Mar Nero e che avevano dovuto rispondere per difendersi praticamente le unità tedesche il Keben e Breslau ammainarono la bandiera che vedete sopra la bandiera della Marina tedesca e alzarono la bandiera della Marina ottomana l'ammiraglio Sushon scriverà nelle sue memorie successive volevo costringere i turchi ad abbandonare la neutralità anche contro il loro volere e la storia gli dà il destro gli dà la possibilità quando martedì 27 ottobre 1914 finalmente al comando del Keben diventato ormai il Yavuz e il Breslau che era diventato il Midilli con bandiere turche esce ufficialmente per queste manovre di esercitazioni nel Mar Nero desideroso di dare una spinta alla storia il comandante tedesco disobbedì platealmente e bombardò la costa russa aveva ricevuto una busta sigillata dove c'erano gli ordini dei due triunfidi di Cemal Pasha e di Ember Pasha dell'atteggiamento che doveva seguire quale dovevano essere i suoi ordini di ingaggio nei confronti dei russi ma lui decise di andare per la sua strada e passare sicuramente ci è passato alla storia perché portò la guerra nel Mar Nero e di conseguenza la Turchia nella Grande Guerra con gli effetti non solo nel Mar Nero e nel Caucaso ma nell'intero Medio Oriente quando quella mattina all'alba di venerdì 29 ottobre 1914 si decise a dare l'ordine di attacco vediamo ora proprio nel dettaglio come si dispiega l'azione ad attacco dell'ammiraglio tedesco contro la costa russa partendo da Oriente andando verso Occidente l'ammiraglio tedesco invia il Breslau quindi l'unità più piccola più leggera ad attaccare il porto di Novorossik ad Oriente dove appunto il Breslau scarica una salva di ben 308 proiettili sul porto russo e successivamente ordina a un ingrociatore l'ingrociatore turco Amidie di bombardare Feodosia Feodosia che negli altri video abbiamo citato al limite e alla fine di questo video vi metto il link degli altri due argomenti dove abbiamo trattata la questione della Crimea dicevo l'ingrociatore turco bombarda prima Feodosia l'antica colonia genovese di Caffo e successivamente portandosi più verso Occidente bombarda anche Yalta intanto il Geben che è sotto il diretto comando dell'ammiraglio Sushon affonda la Donets attaccando direttamente il porto di Sebastopoli la storica base navale quella che è tuttora la più importante base russa che si trova in Crimea e riesce poi anche ad affondare il Posamine Prut che si trova all'interno appunto della base navale russa di Sebastopoli verso ancora andando ancora verso Occidente viene bombardata anche Odessa che fino a poco fa avrei detto avrei detto con lo stesso discorso fino a pochi anni fa valevo per la Crimea avrei detto che si trova nell'attuale Ucraina ma vista l'evoluzione di questi giorni che conoscete sapete meglio di me non posso affermare al momento Odessa che formalmente dovrebbe essere Ucraina e che all'epoca ovviamente faceva parte era un porto dell'impero degli zar dove cosa succede a Odessa la torpediniera turca la Gairet la bombarda Odessa cerca di portare appunto come sta succedendo adesso anche nell'attualità distruzione sulla sulla città fare un'opera praticamente di rappresaglia su questo importante porto ma esce in mare l'unità russa la Kubanez e la torpediniera turca la Gairet è costretta ad allontanarsi comunque nel complesso l'azione attesa anche la sorpresa dei russi si risolve per come una vittoria della ufficialmente della marina ottomana ma già domenica 31 ottobre presi dal panico il governo centrale di Costantinopoli che formalmente ancora in mano a Gran Vizir e a Suttano cerca di riprendere le regini della politica estera dell'impero e presentarono già quella domenica le loro scuse all'impero zanista comunicando queste scuse tramite il ministro degli esteri zarista che era Sergei Sassonov tentando appunto in extremis di evitare l'entrata in guerra ottomana contro la Russia e conseguentemente contro le potenze dell'intesa Sassonov non rispose negativamente rispose positivamente anche di concerto con gli altri alleati dell'intesa però la condizione che veniva posta nonostante tutto era che la Turchia doveva però cacciare immediatamente tutti i tedeschi e non soltanto l'ammiraglio e i componenti degli equipaggi che erano appena arrivati ad agosto ma tutti i tedeschi anche quel Liman von Sanders che era un generale dell'esercito tedesco che si trovava già da qualche anno in Turchia e che stava addestrando l'esercito turco a un'eventuale guerra contro le potenze dell'intesa ovviamente i turchi non potevano che respingere tale proposta perché ormai le condizioni e le complicazioni con cui si erano impegnati con i tedeschi che erano troppo pesanti avevano anche non dimenticate ricevuto quella grossa somma in oro e quindi già da quello stesso pomeriggio lo stesso pomeriggio di quella domenica 31 ottobre Churchill che è sempre il più interventista ma poi nella fattispecie è primo lord dell'ammiragliato praticamente corrisponde al ministro della marina da guerra britannica dà ordine a tutte le navi della Royal Navy di aprire subito le ostilità contro la Turchia contro il naviglio turco in qualsiasi momento avessero incrociato una nave turca ed ecco quindi che il successivo 2 novembre lo zar famiglia Romanov zar Nicola II informò i sudditi di questo nuovo nemico che si era profilato all'orizzonte contro l'impero zarista il 10 novembre 1914 il sultano che fino a quel momento abbiamo visto totalmente escluso da qualsiasi decisione perché il potere de facto era nella mano del triunvirato dei tre giovani appartenenti ai giovani turchi il sultano Mahometto V dichiarò guerra all'intesa il 6 novembre precedente nella moschea di Fatih il sultano che non dimentichiamo ostra essere sultano ottomano era anche califfo quindi era anche capo della comunità islamica per cui questa dichiarazione che fece di ricevere la spada del profeta e di dichiarare la guerra santa islamica la famosa jihad era pericolosa anche per i sudditi di sua maestra nell'India nell'India britannica perché nel suo seno in India l'Inghilterra aveva oltre 100 milioni di musulmani che non avevano mai fatto mistero di avere delle simpatie maggiore per gli ottomani ancorché degli stessi arabi che la religione islamica l'avevano praticamente fondata con il grande creata con il grande profeta maometto quindi questa dichiarazione di guerra che porta l'impero ottomano nella grande guerra cambierà tutto il destino che seguirà alla conseguente dissoluzione dell'impero ottomano la nascita di Israele che poi si concretizzerà nel secondo dopoguerra la questione palestinese le guerre medio orientali la creazione di stati artificiali quali il Libano un altro stato artificiale l'Iraq dal Caucaso al Golfo Persico fino all'Isis tutto questo deriverà appunto dalla dissoluzione dell'impero ottomano tutti gli eventi che scaturiranno dalla dichiarazione e dall'entrata in guerra della Turchia a fianco degli imperi centrali dell'impero 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 dell'impero